l'associazione organizzamundi in collaborazione con i comuni di marina di gioiosa ionica presenta la prima edizione della rievocazione storica il piccolo feudo una due giorni alla scoperta delle origini e tradizioni dell'antico feudo della galea il tutto accompagnato da spettacoli gastronomia cultura e tanto altro 1 e 2 aprile vi aspettiamo a torre galea marina di gioiosa ionica